Domani ci tocca fare il sentiero dell'Idee e mi hanno detto che bisogna andare energici e allegri. Energici non lo so, ma allegri... Allegri, guarda là che piatti, guarda! No, no, quello è quello. E questo? Formano, ma allegri sicuramente... Domani spaziano, domani bruciamo. Domani bruciamo, dai, mangiamo, mangiamo, dai, buon appetito! Buongiorno Sara! Oggi andiamo sul sentiero dell'Idee. Sentiero dell'Idee. Siamo da... A Gerola Town. La città del... Da Gerola, che tutti dicono per di latte. Da Gerola, per di latte, per di latte, per di latte. Ci siamo magnanti, buono, siamo cari, andiamo. Michele era indeciso se andare qua o se andare qua. Ma secondo te, se tutti vanno laggiù, dove sarà il sentiero? Andiamo, troviamo tutti, praticamente. Dovevamo fare questo sentiero dell'Idee e raggiungere Positano. Bravo. Poi da Positano andare a Damanfi. Bravo. Ogni passo, ogni tragitto inizia con un primo passo. Bravo, first step. Gira. First step. Questo è qua. Non so se era un filosofo. Guarda là, guarda là. Il primo passo l'abbiamo fatto. Buono, con il culo, dai. Guarda, mi fai 8 mila di passi. 8 mila di passi. Beh, andiamo. Michele poteva scegliere tra montagna o andare al mare. Cosa ha scelto? La vista del mare. Bravo. Ho scelto montagna e mare. C'è tutto. Mare amico. Dove andiamo? Verso Praiano? O verso Nocelle? O verso Nocelle? Nocelle. Ok, sono andato. Ok, love, let's go. Questo sentiero non è adatto perché soffro divertissimi. Dico Michele. È adatto, Sere. Che guarda la montagna e il muro e non guarda il mare. Io non so se è normale. Questo è vero. Ho capito. Ma tu guarda dove stai camminando. Tu stai guardando il muro. Una volta che caschi al mare ci arrivi dopo aver russato un chilometro. Quindi non arrivi vivo. Ho capito. Non è che fai bagno al mare. Ma tu lo guardi, non è che ci devi cascare. Guarda il spettacolo. Cioè. Vabbè, dai. Vai, vai. Guarda che bel muro che c'è di qua. Era bello. E di camminare e metterli piedi. Sai che se per fare il video a te casco di sotto. Bra. Come facciamo? Quello, quello devi fare. Sta tranquillo. Va. Beh, ciao, ciao. Michele, non guardare di là. Non guardare di là. Io guardo di là. Guarda di là. È forte sicuro. Siamo quasi arrivati a Positano. Ma io vedo che siamo ancora belli in alto. Ma per arrivare giù, no? Bisogna andare su. Guarda. Bisogna andare su. Su e poi bisogna andare giù. Ah, che bello. Siamo vicini ma siamo... Lontani. Un'altra oretta. Ok. Andiamo. Cammina, 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 cammina. Tada! Siamo quasi arrivati a Positano. Il sentiero dell'Ildeè è finito. Alla fine del sentiero dell'Ildeè una meritata... Limonata con limoni veri. Granita di limoni veri. Amalfitano. Con questa vista. Granita al limone. Patrimonio dell'umanità. Limoni veri. Limoni veri. No, la polvere. Polveri. Non è la polvere. Sono i limoni veri, mi chiede. E alla fine del sentiero degli dei... Cositano. Bicci. Beh, e vizzerò felici e contenti. Siamo a Positano. Ma il vero finale non è il bagno al mare, ma è il panino. Con mozzarella di aggerola. Eh, quello era tutto. Noi siamo partiti da lì. La signora che ha fatto un panino. Col fior di latte di aggerola. E' buono, ma dopo quattro ore di cammino. E' ancora più buono. E' la morte sua. Alla spiaggia di Positano. Saluti. Senti dei dei. Tanti saluti.